Domenica 14 agosto il Jet Set Exclusive Club presenta le selezioni ufficiali della dodicesima edizione del GF12. Hai voglia di successo? Non perdere l'opportunità di partecipare al casting del programma prodotto da Endemol che si terrà in esclusiva a termoli presso il Jet Set Disco Club in via Corsica 152 a partire dalle ore 22 con DJ Set e una speciale animazione. Il Jet Set Exclusive Club ospiterà i redattori del reality show più famoso d'Italia interessati alla ricerca di volti nuovi da fare entrare nella casa più spiata d'Italia. Non perdere l'occasione! Il prossimo vincitore potresti essere tu. Info e prevendite Alessia 340 36 10 807